Sì, infatti. Bella? Ancolo? Grazie. 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 Guarda, c'è l'oste con uno strano strumento. Grazie. Non lo so, è buono, mangia. Mangia, sta buono. Oste, cos'è questo? Portaci un altro ritmo. Se non ce lo bevevo. Ma buono. Non lo so, mangia. Oste sta catturando la nostra anima che è quello strumento diabolico. Apri la bottiglia, non fai il cazzone. E non scavaturaccioli. Te ne è fregato il valente guerriero. Il valente guerriero è... Gotthard! Scavaturaccioli. Perchè tutti ridono quando si dice Gotthard è valente guerriero? Perchè lo strano nella frase. Mi servono per currarti le ferite. E tu non vale. E tu non vale. Mi servono per cucirti le ferite. Non reggerei il confronto con voi, mi dispiace. Se vuoi ti ridò questo e poi farti il duello per questo. E' troppo un signore, Gotthard, per fare d'ermano alla signorina. Ma lui è come il cecco. Chiunque? Chiunque! E' un signore. E' un signore opposto. Signor, il cecco! ho mandato un amico a trovarlo non potete vedere l'infestizio abbastanza un po' di più avete cercato di decidere la mia vita Barone, quanto vale la vita? io giro io giro io giro io giro Barone, vorrei che non partisse un colpo per sbaglio no, no, tranquillo Barone, quanto vi faccio dai per i sarci? grazie a casa di uccidermi vostro... all'altro vento e allora faremo tre tenni anche a me anche se io voglio più di questo magine ma fate, da oggi sono il pregato di padre lo tiro a d'occhio a casa senza pesa? no non sta fanno là non sta fanno là no non sta fanno là bravare Grazie a tutti. 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 Ah, qui c'è un libro. Ottimo. C'è un libro, sembra un libro... Padre Bernard vi dice qualcosa. Cosa? Cosa? Padre Bernard vi dice qualcosa? Forse. No, però non ci ci diciamo. Sì, sì, se non lo diciamo, no? Ragazzi, lo spettro! Lo spettro, dietro di voi! Torniamo. Torniamo. Non so cosa vedo alle spalle. Cosa posso fare? Questo. C'è un tentacolo. Sembra di la pappa. Un braccio. Un cambo. Ehm, siamo finiti in una stanza delle torture. Ehm, siamo finiti in una stanza delle torture. Ehm, qui c'è un tavolo. Qui c'è un mancatore. Ehm, sa cosa abbiamo mangiato? Non lo so. Qui c'è un cazzo di tavolo. Guardi, abbiamo mangiato della... Della... Della carne viva abbiamo mangiato. Ma non so, ma non c'è un cazzo di tavolo. Sì, sì, sì. Trappola, c'è la trappola qui. Fermi. Ve l'unfilo qui. Uff, la stavo per raccattare. Non ti vuoi scattare? No, no, fermi. C'è... Dobbiamo trovare lui giù spettissati o altro. Sì. Dobbiamo farla scattare, mentre noi non siamo qui. Ehm, chi è? Chi lo fa? Pure dobbiamo capire perché qui macellano persone e le servono. Cos'è? Ah, il strovalpetto. Ah! Maledizione, è un altro. Ma ce n'è un altro con me qui? Sì, è andato a me tu. Sono qui, sono qui. Fa quello che fanno tutti. Si cacchano a tosso quando vedono pezzi di carne umana attaccati al soffitto. Ciao. Grazie al cazzo. Maledizione. E la luce qua, per favore? Ehi, aspettate, prendete questo ferito. Lì c'è un tavolo, attenti al tavolo, attenti a ciò. E' un'altra cosa. Ti ho ferito? Oddio, vadovi uscire! Vadovi uscire! Via, 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 via! Fermo! Via, via! Fermate, quell'uomo! Forza uno! Ehm, bene, bene. Bene, andiamo perso la luce. Fantastica. Sempre meglio. Andiamo, 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 andiamo. E quanti siamo rimasti? Uno, due, e tre. Ok, che ci fai tu? Bene, quattro, vai, uscire! Sì, ci siamo! Mi lascio mettare una a tutti, uscire! Andiamo, 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 andiamo! Andiamo, andiamo, andiamo! Dobbiamo uscire! Il cazzo Felix si è l'unico dentro! Sì, scorsa! Sì, scorsa! Sì, scorsa! Felix, tu è! Il cazzo Felix si è l'unico dentro! Dentro, dentro, dentro! Sì, scorsa! Non faccio mai! Non sono aperto, mi trovo. Adesso, allora, dai! Lascio tutti i porti! Via! 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 Via!